Ma che caspita è questo qui? Cosa si sta creando nella mano sua? Questo si sta creando in un guassino di cose. Si creano tanti dispositivi e le... Ma che caspita è un alien? Cosa è successo? Ti sembra strano che ti stai facendo distruggere da una scarsa come me? C'è scritto come ottenere gratis la skin dei calciatori set inizio emoji e qualcosa del genere. Si ci sono le skin dei calciatori, c'è quella della Juve. Ma quindi si può ottenere gratis? Non l'ho capito, lo sto facendo sul gruppo, guarda. Ma no, la devi sciopare. No, c'è scritto ottenere gratis. Ah, è un torneo allora. Oh, l'ho inviato. Si, si è caduto. Ma ora non cade più perché diventiamo un grande. Non me ne vado. Ho paura. Del bubuio. No, io ho paura di Andrea. Che poi c'era praticamente io facevo la collezione degli schifido, le figurine, e c'era uno che si chiamava Andrea Altamarea, ti giuro che c'è questa figurina. Ti giuro che c'è questa figurina. La puoi cercare anche su Google, non so se la trovi perché io non ce l'ho più le figurine, l'ho persa tutta. Bravo. Ma c'è scritto, c'è scritto Andrea Altamarea, c'è scritto. E c'è praticamente, c'è la cacca e tutta la, è lui che sta nuotando nella cacca. No, ti giuro, c'è una scheda che si chiama Andrea Altamarea. Puoi cercare su internet. Che cazzo, l'ultimo palloncino non lo scoppia mai. O ci fai? Chi è che sta cantando lentamente piano 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 piano? No. Facciamo il processo con la bianca. Io, 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 io. Copisci, copisci, copisci. Io, 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 io andrea maybe it's for the shandons the shandons you have to look for the shandons the shandons the shandons the shandons the shandons the shandons no fantastico record si però mi bastava un poco di più e ce la faccio 161 dire oh my god should i do it should i do it